Eccomi qui adesso con una copia di stilisti polacchi e fortunatamente anche con il vice console polacco qua in Italia che vado subito a presentare perché capisce l'italiano Sì, buonasera a tutti, siamo molto orgogliosi, è davvero che possiamo avere i nostri proiettanti, i nostri stilisti qua con voi e vogliamo dedicare questa serata, ci vogliamo passare questa serata con voi Eccoci qua, bene, allora sono due giovani stilisti che però hanno già una fama internazionale Allora io abito a Francia, dice Agnese Vuian, proietto lì e sono molto orgoglioso di questo fatto che vogliamo fare di più queste attività che servono per promuovere la Polonia che oggi sono con Marta e vogliamo continuare ad andare avanti con questo progetto I loro abiti a cosa si attengono? Sta proiettando per le donne giovane, piene di energia, cioè che possano sentirsi veramente bene con se stessi Che per loro è importante la qualità, cioè vogliamo portare i prodotti di lusso a tutti quelli che ne hanno bisogno Quindi questa sera cosa ci faranno a vedere qui al FiftyFive? Per quanto riguarda le donne, vogliamo collegare il lusso, la qualità, il sexy Per quanto riguarda la moda maschile oggi ci sarà un'inaugurazione di un abito da uomo Bene, allora noi vi auguriamo il meglio e che sia una bellissima serata, ok? Grazie mille, è stato piacere, grazie Grazie